Una manifestazione degli operatori sanitari contro l'obbligo vaccinale, domenica 12 aprile. Ecco l'appello a partecipare di uno degli organizzatori, Raffaele Barbara. Sentiamolo. È fondamentale esserci, dare un segnale forte di dissenso, i cittadini a fianco ai professionisti sanitari, perché questa non è una battaglia categoriale, ma è una battaglia che riguarda tutti. Se non diamo un segnale, presto l'obbligo vaccinale per adesso, solo per noi, sarà esteso a tutti, a tutte le categorie. Quindi ci sarà da divertirsi domenica 11 in Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 9.30. Vi aspetto perché il formato che daremo alla manifestazione sarà diverso dalle manifestazioni andate in atto in questi mesi, dove si sono alternati vari relatori con il popolo che rimaneva sullo sfondo, in ascolto. Adesso, grazie ai loro contributi, abbiamo imparato, abbiamo scelto liberamente di dire no a questo trattamento sperimentale. E quindi ora bisogna però innalzare il livello delle rivendicazioni. E il popolo deve essere protagonista in una forma di protesta, di manifestazione, capace di rendere evidente, manifesto appunto, tutta la sofferenza, il disagio, le paure, le ansie che abbiamo accumulato. Il modo più facile per mobilitare le nostre ansie, le nostre paure, i nostri condizionamenti è esternarle ed esorcizzarle tramite la propria voce. In questo modo la piazza assumerà anche un valore terapeutico quasi, una valvola di sfogo di tutte le passioni tristi che in questo modo si trasformano in divertimento, in aggregazione, in orgoglio di appartenenza ad una storia comune che stiamo condividendo. Quindi invito tutti ad esserci perché saranno due ore davvero rigeneranti per l'anima. Libertà! 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 Libertà!